Musica Serena Dandini Che bel pubblico Sono caldi, sono caldi I ragazzi sono caldi Già sudato Già hai dato tutto? Ho dato tutto quanto, ho sudato Ho bisogno di un integratore e basta È rimasto il peggio per me E recupero qua Come va, come stai? Bene Che bello, finalmente ce l'abbiamo fatta Sì, sono venuto a prenderti con la forza Mi sono diventato un po' pigro Ultimamente mi piace scrivere, casa Sì, capisco perché sono nato un po' pigro Però sì, è tanto tempo che diciamo Non sembrerebbe, zompetta dietro le quinte Io do tutto qua Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Per me, acqua Però se vuoi possiamo organizzarci Vorrei bere la stessa cosa che ha bevuto il signore Cos'è, Henry ti presento stesso? Esatto La stessa cosa anche per me Senti, tu hai dei consigli per me Ho detto prima Storia della Rai Madrina di alcuni dei programmi Di più grande successo Un sacco di talent scout Di comici Come ci si comporta dentro questa azienda? Io tutto sommato sono appena arrivato E... Ma tu non hai bisogno di consigli Dai, te la cavi benissimo Le cose poi sono più semplici, no? Di quelle che appagliano Secondo me devi... No, la cosa è proprio semplice Essere te stesso Metterci l'anima Dire quello che ti pare E poi in caso ti cacciano Ma... Ah, ok Cioè, mettendo in conto fin dall'inizio Che può succedere? Ma anche perché Chi ti caccia poi Sarà cacciato a sua volta Perché è una ruota È zen La vita è così Perché non ti preoccupare Era più grave quando c'era solo la Rai Sì, esatto Perché se ti cacciavano di qua Dovevi cambiare lavoro No? Invece così puoi... Sì, sì Si puoi già A te? Ma è capitato? Adesso a memoria Non mi ricordo Sì Sei stata cacciata Quando c'era il governo Berlusconi Ma dopo sei mesi Hanno cacciato lui dal governo Vedi? Occhio Occhio È tutto Non vi mettete contro questa No, io non sento niente Però per dire È karma È vivere le cose così Un po' carica E come mai ti avevano cacciato Ma insomma Ma perché l'avevi preso in giro? Sì Abbiamo fatto degli sketch Sai, satira Sì, certo Beh, oggi siamo anche in giornata In cui è stato appena... Sì Si è chiuso un certo Si è chiuso A ruota A ruota Si è un po' chiusa Vogliamo mandargli un saluto? No, lo so No, non mandiamogli un saluto No, e come mai? Sat, beh, satira No, satira C'è uno sketch Perché noi abbiamo visto quella foto Delle, sai Delle ragazze chiusa nel bagno Di Palazzo Chigi Quello che era, no? Sì Passa su tutti i giornali Ancora non erano uscite le oggettine Però a noi ci è piaciuto tanto Abbiamo fatto uno sketch su Lost in WC Sì Che erano rimaste chiuse in questo bagno Allora incontravano anche I fantasmi delle ragazze precedenti Era una cosa anche poetica Sì Non è stata capita Non è stata accolta Non è piaciuta Ma non lo sapevamo Come andava a finire Ma no, immagino Se no l'avreste fatto lo stesso Avete mai fatto qualcosa Dicendo Vabbè qua sono guai Ma lo facciamo lo stesso Sì Perché eravamo un po' così No Un po' scostumati Un po' No, più che scostumati Avevamo voglia Ci sentivamo liberi Cosa che adesso È un po' più complicata So che tu sei un appassionato Del politically correct Tantissimo È proprio la mia materia preferita Sì Credo che delle cose Che noi abbiamo fatto Per esempio ad Avanzi Oggi forse farebbero difficoltà Andare in onda Per dirti Ieri c'è stata con noi La Jalapas Io sono cresciuto Con Pippo Kennedy Ma i dire gol Tantissime di quelle cose Oggi farebbero No, è strano Che volevamo andare Due o tre anni fa Con gli stati generali In replica Uno spot Dove prendevamo in giro Una nota Fabbrica di biscotti Che la chiamavamo La fabbrichetta bianca Della Palilla Che non Trava niente Sì, certo Che erano i biscotti Con la cocaina Giusto? No, ma non No, no, non vera No, non vera Era che Le chiamavamo Le strisciole Certo Per dire La colazione del campione La colazione del campione Non so se oggi Si potrebbe Si potrebbe ancora fare Potresti provare tu Adesso ci facciamo venire in mente qualcosa Nei cookie monster Facciamo mettere qualcosa Nei cookie monster Ho trovato questa foto Oh là là Che è una serena d'andini Del Ottantasei La mia prima La prima Il primo programma televisivo Si? Che si chiamava Obladì Obladà La band Che come uno dice una cosa Si guarda Ma infatti adesso partono Obladì Obladà Obladì Obladà Perché loro sono precisi Partono dall'intro Ti fanno tutto l'intro Non è che attaccano al ritorno Solo Stavamo già accennato Tutto il disco Sono giù Fanno tutto Era una roba molto Io venivo dalla radio Per cui Botta di stare così in video Ma non mi sono andava di moda a chadè Ma ho messo questa treccia È vero Si c'è un'acconciatura È posticcia Non è mia Erano attaccati? Eh si perché andava di moda a chadè Che aveva questa treccia Così eccetera Allora mi hanno convinto Poi un trauma Prima di ritornare in video Ci ho messo un po' Ma infatti Però era un bellissimo programma Molto all'avanguardia Eh io quello Me lo ricordo Me lo ricordo poco Però quanto ci hai messo a trovare Il tuo stile Non a livello di acconciatura Ma a livello di cifra E poi ho assunto questa E questa è rimasta Comodo La trovo comodissima E' il più co Come viene Si si Beh insomma C'è stato Un po' di tempo Poi devo dire E' stato la Rai 3 Di Angelo Guglielmi Che ha dato spazio A tutte le idee Un po' diverse Ai desideri Agli autori Alle autrici Che avevano Idee un po' più Meno canoniche Meno no? Beh un intellettuale Cioè quanto è importante Avere Guarda lui Dietro le spalle Una persona di cultura Ma no Una persona che comunque Ti dà fiducia Importantissima Questo tu lo sai Poi lui era pazzesco Perché era un grande intellettuale Noi quando siamo andati A raccontargli la tv Delle ragazze Eravamo No? Tre ragazze Ma un'ora a chiacchierare A dire allora Poi facciamo questo E quando fai quell'entusiasmo Per cercare E lui muto Questo grande intellettuale E poi c'era sempre Una pinna Una matita filata Che si Che noi dico Oddio Adesso si ficca la matita Per la disperazione Di quello che gli raccontiamo Finiamo questo racconto Lui muto E noi ci caccia E invece ci guarda E fa No cammino niente Però sento la passione Fate lo suo programma Che bello Che bello Tanta roba Eh vabbè ma Bisogna avere una sensibilità Tra l'altro la tv delle ragazze Quello Un super successo Tutta Tutta il femminile Tutta il femminile Scoperto un sacco di Comiche Brillanti Dove andavi a cercare i comici? Beh non c'era internet Eh no certo Nei teatri In giro Nei passaparola Poi sai c'era la convinzione Che il senso di humor Fosse un attributo Prettamente maschile Una cosa che c'hanno gli uomini Che noi non abbiamo Sì sì Lo sei presente Certo Io ancora adesso lo dico Con mia moglie Con le figlie Ma si divertono più con te Perché siamo più simpatici Invece no Invece no E invece quando abbiamo cominciato Non hanno riso proprio tutti Su questa cosa Il pubblico era un po' diviso È stata un'esplosione Perché in realtà Le donne non vedono l'ora Di esibirsi Non solo il senso di humor L'ironia Ma anche l'autoironia Che è fondamentale Per sopravvivere E quindi poi le cose Sono molto cambiate Nel senso che Sono molto cambiate Però insomma Ci sono Sono molto cambiate Ci sono delle straordinarie artiste Anche oggi Comiche certo Comiche E così eccetera Però per esempio C'è un po' una iattura Ancora per le donne a Sanremo Secondo me Che devono essere serie A tutti i costi No che prima Eravamo costrette Al vallettismo muto Certo Poi ora siamo costrette Per dimostrare Che siamo intelligenti Armonologo di mezzanotte Sì caricarsi sulle spalle Un temone Profondo Sì fammi un tema Capito Gli uomini possono essere Allegramente cretini Come te Sì certo No No lo dico Lo dico Perché Tu Ti diverti Nessuno mette in dubbio La tua intelligenza Alcuni sì Però sì 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 Però tu invece No normale Mai devi per forza Allora dimostrami Che sei intelligento Questa roba pesante Quindi un po' per reazione Ho anche deciso a teatro Di fare Infatti Vieni avanti Vieni avanti cretina È il titolo Dello spettacolo teatrale Cosa fai? Perché rivendico un po' Questa parità nella cretineria Anche la nostra stupidera È un happening Dove ci sono Mi diverte molto il talent scouting Come hai detto prima E quello mi manca Se vuoi Ecco la cosa che più mi manca Della tv è Questo andare a annusare A cercare Perché non c'è niente di più bello Sì 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 di trovare Noi ci stiamo provando con Mike Guarda c'è Mike lì Guarda A stanarlo Guarda Come Te lo vuoi portare via No Non portarselo via Assettabile Non portarselo via Te lo invidio Eh lo so Te lo invidio E quindi L'ho così Riversata a teatro Dove c'è Molta libertà Sì Perché il teatro è pieno Quello è bello Certo No infatti lì Non ci sono pericoli Non ci sono rischi Poi ricordati sempre Che dietro una donna cretina A volte si nasconde Una donna troppo intelligente Per farlo vedere Hai due figlie Dovrei No no ma io No ma io Io sono totalmente Dai da fare Sono totalmente Dalla loro parte Lo so Uno dei grandi regali Che tu ci hai fatto È stato quello Di andare a scovare Tra gli altri Corrado Guzzanti Che faceva l'autore Prima per sua sorella Diciamo che si sarebbe Scoperto da solo Perché è talmente geniale Però sì Nella tv del ragazzo C'era Sabina Che poi ha detto Ah ma c'è il mio fratello Che scrive i testi Allora noi ad Avanzi Abbiamo aperto Alla quota azzurra Diciamo Anche agli uomini E quindi C'è stato questo incontro Lui è Ragazzo Timido e schivo Ma lo è tuttora Certo E È stato pazzesco Perché ho provato Sul divano di casa vecchia mia No mi ricordo A improvvisare Con lui E ha cominciato a fare Questo Rocco Smitherson Il regista De Paura Non so se ve lo ricordate Che poi è stato Un personaggio di Avanzi Io lì ci ho avuto Prima Sai l'illuminazione Sai quando dici no Io muoio Se non lo porto Nel programma Lo voglio Devo farlo vedere Sai quella cosa Quando vedi il talento Allo stato puro Che c'hai una Quasi un'eccitazione No no Cioè quasi fisica Quasi fisica Quasi fisica E infatti è nata Un'alchimia Una Insomma siamo stati Molto bene insieme Grande Corrado Tra le altre cose Come ti dicevo Io sono Grande fan Di i tuoi programmi E mi ricordo A scuola rifacevamo Le gag di quello Il signor Livore La seconda Esatto Cioè tutte queste cose qua Livore era un personaggio Sto l'ha fatto tre volte Ma era incredibile Lo so io ero super fan Per questo 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 L'altro motivo Incredibile Non sai le volte Che gli ho chiesto Rifacciamo Livore Perché è molto attuale No no Beh bellissimo Sì 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 Che sputava pasticche Sì sì Perché per tranquillizzarsi E Lorenzo Che era un grande idolo Di tutti i ragazzini Perché impersonava noi Certo Tu sei stata Tra le ultime Che hanno visto Carcoban Ah sì Eh come è stato Contro con Carcoban Abbini questo Il fatto che L'altro po' Giamenavano a Lorenzo Eh sì Perché erano venuti A fare un'esibizione E Lorenzo era entrato Lui era un personaggio Di Corrado Era un fan del grunge Però forse In Irvana Non lo sapevano Style Stavano proprio Allegrissimi Certo sì Credo non lo siano mai stati Sì 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 Facciamo vedere che ci abbiamo Due lire anche noi Vai 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 Invece No no Non volevano Non volevano Per cui stop Stop Una cosa veramente E arrivò a Corrado E loro per fare gli spiritosi Cercarono di togliergli Le parru Sì Che però era messa Con delle forcine Quindi una scena Patetica Lo stavano Che meraviglia Che meraviglia Gli hanno fatto del male Senti Poi si sono fatti del male Da soli Ma quello Sì 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 Purtroppo Purtroppo hai messi Purtroppo Ho anche qui tra le mani Il tuo libro Cronache dal paradiso Di che cosa Di che cosa parla Ho dato un occhio Veloce Sì ho dato un occhio veloce Molto bucolico Beh molto bucolico Intanto Sono storie di persone Famosi o non Che hanno cercato Il paradiso interno In fondo Che cercano Ancora pensano Che è possibile Un po' di felicità Nella nostra terra Devastata E quindi Bucolico Perché in qualche modo Forse il paradiso È proprio dove siamo E ce lo siamo dimenticati No Quindi Però può essere La ricerca del paradiso Un sogno Un'ossessione Un viaggio Un ricordo Tu anche hai cercato La felicità Sì 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 Comunque In ogni caso È difficile pensare Di non essere ambientalisti Perché noi siamo L'homo sapiens L'unica specie Che distrugge l'habitat Da cui dipende La sua sopravvivenza Se ci pensi Capito Se le piante Se noi ci stinguessimo Di botto Di botto Adesso Mentre parliamo Sì così Bloccati Le piante Una settimana E se no ripresi tutto No le piante Proprio non gliene importa niente Al contrario Certo Noi moriremo Noi moriamo Sì 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 Quindi insomma Annaffia il tuo figus benjamin Lo farò Lo farò Senti si dice sempre Che le persone Di sinistra Così siano snob Tu ti senti snob? Ma mai No Però Però un po' Un po' passi Perché comunque C'è anche questa concezione Che se tu Mangi usando le forchette Sei snob Che uno dice Vabbè Dipende È la base anche Delle cose Si mangiano per forza Con le mani Sennò non c'è gusto Mio padre Ma ti senti percepita Come snob? Ma sì Ma io Non mi sento niente Però spesso C'è stata questa cosa Radical Shake Io mi ricordo Un Sanremo A proposito Dei Sanremi Ne ho fatti quattro In varie menzioni Cioè Sì Ogni volta È come buttarsi Col parapendio Non so se E ero nella giuria Quando Era il 19 Quando Una giuria di qualità Non so come si chiamava Eccetera Così E Avevamo sentito Tutti quanti Questa canzone Soldi Di Mahmood E diceva Beh è una cosa pazzesca No? Anche la prima volta Che l'hai sentita te Certo Sì sì Beh si capiva Era una roba Forte Per cui Senza dircelo L'abbiamo tutti votata Non ti dico I Radical Shake Votano l'immigrato Il marocchino Che poi è italiano Sì tra l'altro Ma questo è un 100% Ma questo è un po' Come Paolo Egon E quindi Lo scatena Radical Shake Onde poi Ha avuto un successo Scusate Talmente Sì sì Quanto meno Poi ha rivinto con Blanco Però lì si è riequilibrato Certo Perché c'era Sì sì C'era quello biondo E allora Sì sì Poteva andare Vabbè comunque Voglio dire a volte No 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 Immagino Ti faccio questa domanda Perché qualche Non so che ti dicono a te Che ti dicono A me Qual è la cosa Che ti irrita Sì no 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 Ma che mi irrita anche a me Niente Però sì Dicono Sì anche di me Principalmente che sono snob Che faccio cose un po' Fighette Un po' di nicchia A te fighetto 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 e nicchia Fighetto e nicchia Siamo nicchia e fighetto C'è Personaggio di cartone animato Nicchia e fighetto Sì 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 come quelli dei Simpsons Grattacchetti Facciamo subito Disegniamoli Noi siamo nicchia e fighetto No ti chiedo questa cosa Perché un altro personaggio Anche lui potenzialmente Da cartone animato Guè È venuto qualche tempo fa Da noi E lui ha tutto un altro tipo Di stile Tosto Street eccetera eccetera Molto street Abbiamo giocato con lui A dividere il mondo Secondo le categorie In cui lo divide lui Cioè umani o subumani Perché per lui Non ci sono via di mezzo Sono umani Niente sfumature Niente sfumature Ho paura che mi fassi mangiare Il peperoncino No come Fedez No Ne abbiamo ancora un paio di là No no Ne abbiamo ancora un paio Chi fa si sa mai